Ora io non sono pentita di aver detto la verità, se ti penti di dire la verità non avrebbe più senso il mio essere madre, ma sono pentita di essermi fidata, di aver fatto una confidenza a persone sbagliate. Denunciare dopo 20 anni bisognerebbe mettersi al posto di una donna. In primo luogo distruggere la vita delle persone, perché un uomo è sempre stato o un nostro figlio, siamo state madri, quindi questo uomo contro donne, così questa paura non dovrebbe esserci, ma semplicemente dovrebbe cambiare la cultura dal basso, da come cresciamo i nostri figli. Bisogna farlo con molta cautela, non fare confidenza a persone sbagliate, bloccare, se questa persona, questo famoso orco, lo è veramente, tu ovviamente come donna, quando ti rendi conto che è stata una cosa che hai subito, vuoi bloccarlo. Non bisogna farsi prendere da questa foga, bisogna farlo con intelligenza, facendosi aiutare. E accettando anche che l'unico modo per fermare questa situazione, visto che gli orchi in qualche modo sono una società che stiamo facendo crescere noi, potrebbe essere un tuo figlio, quindi non odiando, ma cercando di andare sulla cultura.